Morì durante una battuta di caccia in località Gallari, zona impervia del comune di Vibonati. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima seduta dell'udienza preliminare, nel corso della quale è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio per il quarantenne che premette il grilletto e involontariamente colpì a morte Michele Quintiero, meglio conosciuto come Michele Dignesia. Il giudice ha aggiornato la seduta al prossimo 27 febbraio, quando dovrà decidere sul rinvio a giudizio l'archiviazione della posizione del quarantenne accusato di omicidio colposo. In quella sede dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta avanzata dal legale della famiglia Quintiero, Vincenzo Speranza, di citare in giudizio il responsabile civile, ossia la compagnia assicurativa, che dovrebbe così assumersi tutti gli aspetti relativi al danno patrimoniale. La vicenda avvenne nel settembre 2017 ed è ancora una ferita aperta per tutte le famiglie coinvolte. La morte di Michele Quintiero avvenne durante una battuta di caccia al cinghiale, in un periodo in cui questa non era consentita. Il 55enne era appostato tra i cespugli a poca distanza dal compagno di squadra. Entrambi erano in attesa del cinghiale che avevano visto poco prima. Ad un certo punto il più giovane dei due scambiò, presumibilmente, i movimenti del suo amico per quelli dell'ungulato e imbracciò il fucile, sparando dei colpi che raggiunsero Quintiero tra il collo e il torace. Il 55enne morì di lì a poco per le gravi ferite riportate e fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il suo corpo. Una tragedia tutta vibonatese che colpì l'intero comprensorio e che ora è arrivata nelle aule giudiziarie.